Ben ritrovati al momento dell'informazione dedicata a Brindisi e Provincia. Il capo della polizia Vittorio Pisani in prefettura questa mattina a Brindisi a presiedere il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza convocato dopo l'assalto ad un portavalori ieri mattina sulla strada statale 613 nel Brindisino all'altezza di Tuturano. A la riunione hanno partecipato anche il prefetto Luigi Carnevale, Alessandro Giuliano, capo della Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, i vertici della magistratura di Brindisi e del DDA di Lecce e di rappresentanti territoriali delle forze dell'ordine. E allora noi andiamo direttamente nella città adriatica a collegarci con il collega Fabrizio Caglianiello. Fabrizio, buon pomeriggio a te. Sì, eccoci ben ritrovati da Brindisi, da Piazza Santa Teresa. Alle nostre spalle la prefettura si è concluso poco dopo le 12, l'atteso comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che è stato convocato dal capo della polizia Vittorio Pisani che è arrivato questa mattina a Brindisi poco dopo le 10 per presiedere questo vertice al quale hanno partecipato ovviamente tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine, responsabili delle forze dell'ordine locali ma anche i massimi rappresentanti della magistratura capeggiati dal procuratore capo Antonio De Donno. Si è fatto il punto sulle indagini ma soprattutto il capo della polizia ha annunciato una pronta risposta dello Stato. Già nelle prossime ore saranno inviate qui in provincia di Brindisi e in generale nel Salento altre unità delle forze dell'ordine nello specifico carabinieri, guardia di finanza e polizia. Sentiamo le sue parole evidenziando comunque che il dottor Pisani non ha voluto dire nulla in merito alle indagini. Sicuramente è emerso che c'è una fascia territoriale tra la provincia di Brindisi e di Lecce dove è necessario incrementare i presidi di polizia. Quindi ci sarà un successivo comitato che sarà svolto, organizzato dal prefetto insieme appunto al procuratore di Brindisi e di Lecce e ai rappresentanti dei comandi provinciali della Guardia di Finanza e dell'Arma dei Carabinieri per valutare in base all'indice di deltuosità dove è necessario aprire dei nuovi presidi di polizia. Dottore, senza entrare chiaramente nello specifico delle indagini comunque si sta seguendo qualche pista specifica già? Su questo mi consente anche perché qui c'è il procuratore non è il caso in questo momento di rispondere a questo. Siete fiduciosi comunque? Speriamo come sempre di riuscire ad individuare il responsabile. Dottore, solo un'ultimissima cosa in base alla sua grandissima esperienza la sensazione è che fosse comunque un comando organizzato cioè si parla di professionisti del settore? Sicuramente le modalità esecutive danno queste indicazioni. È difficile dopo 24 ore quello che sapete sappiamo anche noi quindi lasciateci lavorare speriamo di riuscire anche questa volta a dare un risultato positivo all'investigazione. Occorre tempo, è un'indagine complicata naturalmente molto complessa l'analisi deve essere approfondita su ogni segmento su ogni elemento residuato dall'azione e quindi abbiamo la necessità di tempo di fare le investigazioni anche tecniche più accurate. Vi ritroverete a stretto giro per un altro comitato? Penso che sia un intendimento comune quello di andare avanti sul dialogo istituzionale per cercare di rafforzare i presidi sul territorio che è una scelta assolutamente fondamentale. Le indagini dunque proseguono si battono diverse piste probabilmente questa è la sensazione nelle prossime ore ci saranno già delle importanti novità per ora è tutto da Brindisi se dovessimo avere bisogno per ulteriori aggiornamenti vi chiederemo nuovamente la linea. Grazie, grazie a Fabrizio Caglianiello.